allora siamo venuti un attimo sul po visto che siamo di ferrara non ho ancora visto la secca del po dovrebbe essere prevista un pochettino di pioggia se dio vuole e qua scatterà il meme non voglio vedete la secca lì qua c'è anche un bel po di secca qua all'interno comunque è messo già bene rispetto a giorni fa e adesso siamo appena appena sopra i livelli minimi ma giorni fa era sotto i livelli minimi perché è venuta qualche pallida pioggia non a ferrara ma più in su a monte siamo venuti in bici da ferrara una bella pista ciclabile di francolino poi al ritorno ve ne faccio vedere un po grazie a tutti 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 grazie a tutti